Bravissimo, dai dai dai, bravissimo Zeus, bravo, bravo Zeus, bravo, bravo, bravo Rambo, bravo. Prima enorme magliella per Rambo, Zeus ha già fatto una tranche educativa e praticamente stiamo trasformando quello che andranno a fare da tutti in campagna, di fatto, in un posto ricondurribile andando a Tufaia, anche se relativamente presto la temperatura è abbastanza alta, Zeus già si è fatto una passeggiata all'esterno insieme a un cane tutor, Rambo sta iniziando a lavorare bene. A utilizzare il naso. Adesso lo stiamo spronando a non andare a caccia, ad ignorare l'odore delle femmine in calore e ovviamente avere un aspetto cognitivo sul tartufo. Rambo dov'è? Rambo dov'è? dov'è? Buon naso, bravissimo, bravo Rambo, bravo. Rambo, bravo, bravo Zeus, bravo. Zeus, bravo, bravo, bravo. Rambo, adesso cerchiamo di farcelo riportare. Bravo, bravo Zeus, bravo, bravo, bravo. Anche utilizzando, bravo Rambo, eccolo qua. Anche utilizzando la gelosia. Ok, adesso continuiamo dall'allenato. Ok, adesso continuiamo dall'allenato. Grazie a tutti.